Abbiamo appena terminato il sopralluogo su Salita d'Orregaveta per la questione della frana che purtroppo ha interessato come vedete gran parte del muro di contenimento, sono circa 25 metri. I tecnici della provincia hanno stabilito che bisognerà fare un intervento abbastanza serio e complicato perché bisognerà andare con una palificata a prendere la parte solida del monte. Quindi gli importi che stanno richiesti sono elevati e stanno cercando di reperire le risorse. Nel mentre si sta valutando la possibilità di aprire un solo senso di marcia, cosa che sarà fatta non appena avremo però le garanzie che la provincia si attiverà anche per risolvere definitivamente il problema perché altrimenti corriamo il rischio di trovarci con una strada aperta a senso unico alternato non per mesi ma per anni. E questa è una cosa che assolutamente vogliamo scongiolare.